Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con le leggendarie monoposto Ferrari degli anni 70. In questo caso specifico la leggendaria Formula 1, la Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve del 1979, edizione Centauria in scala 1 a 8, uscita numero 28 delle 110 previste. Ringrazio volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Ringrazio e abbraccio i miei abbonati che stanno crescendo piano piano, grazie di cuore, perché solo grazie a voi che io riesco ad affrontare delle piccole spese che diversamente non avrei potuto per acquistare qualche numero di collezione. Grazie ragazzi, davvero. A tutti gli altri, sempre che ne abbiano piacere, dico questo. Iscrivetevi al canale, intanto qua vediamo il risultato finale. Attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, potrete trovare altri modelli, non ci sono solo auto. Spero che il canale possa continuare ad andare avanti e mettere sempre più articoli. Così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie a tutti a quelli che vorranno iscrivermi e seguirmi. All'interno l'estintore, il manometro e il comando apertura valvola. Allora, io sono andato già ad attaccarmi questi tre elementi. Mi sono solo portato più avanti perché li ho incollati. Assolutamente non li mettete soltanto a pressione. Quindi, guardate, questo pezzo si inserisce qui. Come potete vedere, a parte che nelle istruzioni è chiarissimo, avete l'inserimento a mezzaluna, non vi potete sbagliare. Vedete? Qui. E quest'altro pezzo, più che qui non può andare. Avete un po' di gioco quando lo metterete dentro questo. Io l'ho messo, potevo metterlo più in su, più disassato rispetto a questa linea del, vedete? Tra questo e questo, dell'estintore. Oppure potevo metterlo diritto. Io l'ho messo diritto, ma questa è una scelta veramente che non varia assolutamente nulla. Poi abbiamo il quadrante del manometro, che vi voglio fare vedere, se riesco, nella sua riproduzione. Adesso vabbè, non sarà diritto, ma quello che conta, farvelo vedere. Guardate. Va girato al contrario, il segmento che vedete qui da questa parte, chiaramente, va messo di qua. Non vi potete neanche sbagliare, perché anche qui l'inserimento è univoco, perché abbiamo un perno a mezzaluna, di conseguenza l'inserimento a mezzaluna. Proviamo a vedere, perché penso che non serva mettere la colla qui, ma vediamo. Più che altro va consumato un po' su questo bordo, che abbiamo uno sfrido di lavorazione. Qui vedete? Questo va tolto e io ovviamente lo vado a togliere. Bene, così è perfetto. Allora, vediamo un po' la mezzaluna sopra, così. Ecco qui. Adesso devo inserire questo all'interno. Questo è grande. Questo me lo potrebbe rovinare. Prendiamo questo che è in legno. Facciamo così. Ok. Vediamo se esce o in collo. Ma non esce, quindi va bene così. Poi c'è il vetrino. E qua, qua bisogna fare attenzione, perché un vetrino così particolare, allora, generalmente i vetrini hanno la bombatura verso l'esterno. Qui, se guardate bene, vediamo, eh? Ok. Abbiamo una parte che va a chiudersi. È leggera, è quasi impercettibile, però c'è. Se noi la giriamo da questa parte, l'inserimento è più semplice. Così. E conviene. Il discorso è, poi, mi si stacca? Non dovrebbe. Se vado a incollarlo devo essere veramente bravo, assolutamente non devo usare un ciano acrilico come l'atta acraloctite, per capirci, perché me lo farebbe diventare tutto bianco. Sarebbe orribile. Quindi o metto una goccia di bicomponente, ma anche lì bisogna fare attenzione, perché un minimo di collante che va dentro il vetrino me lo potrebbe potrebbe rovinarmi l'estetica in maniera irrimediabile. Quindi faccio così. Come vi ho appena detto, il vetrino è smussato da una parte. La parte smussata va messa verso l'interno. Ve ne accorgete, perché se lo girate al contrario, vedete? Già così si è inserito un po', vedete? Solo appoggiandolo. Se lo girate al contrario non entra. Quindi vediamo cosa succede. Me ne accorgo dalla pressione che vado chiaramente a esercitare, se può ottenere oppure no. Questa è gomma. questa è gomma. Ovviamente non devo rompere niente. Sì sì, non incollatelo ragazzi, non l'ho incollata assolutamente, perché l'inserimento a pressione ci è voluto un po' di forza e dubito che questo mai possa uscirvi fuori. Una volta inserito tutto all'interno, non lo farei entrare oltre il filo, perché è molto bello così. Vedete? È a filo della plastica. Io penso che così sia molto carino, perché se io vado a premerlo ancora con le dita, lui mi entra ancora un po' di più. Però io eviterei di fare questo. Lo lascerei così. Bene. A questo punto, vedete? Proprio perché, se non ingrandisco giustamente cosa vedete? Nulla. Proprio perché non ho attaccato ancora queste parti, io vado a levare questo e vado a inserire perfettamente l'estintore senza alcun problema. vediamo un po' se è il caso di... mettiamolo così, va? Così non rompiamo, non rischiamo di rompere nulla. Ho esercitato una certa pressione per inserirlo, ve lo garantisco, e non lo potete fare se avete montato già il pezzo. E poi posso andarlo tranquillamente, controlliamo, a rimontare? Così? Così no, ma come vi ho detto alla fine io vado a smontarmi nuovamente il roll bar, che è più semplice, quattro viti, anche perché poi queste parti devono inserirsi qua, e così non entrerebbero, e vado a incollarmi i quattro perni, da una parte e dall'altra, andandomi a riprendere anche questo bianco qua. Questo è. Quindi, una volta smontato, questo rientra tranquillamente all'interno, senza problemi. L'unica cosa, voglio accertarmi che questo non mi si stacchi, perché se io faccio un po' così e si stacca già adesso, subito, non va bene. L'inserimento è abbastanza duro, però ragazzi io vado poi a incollarlo, assolutamente. Un goccio di colla ce lo metto, perché cosa ne so io, tra diversi anni cosa può succedere. Non è che voglio trovare un pezzo staccato, andarlo a riprendere. Tanto questo è, questa è la sua posizione, qui deve stare. Bene, anche questo montaggio è così terminato. Nella prossima uscita andremo a vedere insieme, anche se voi l'avete già fatto, ma mi rivolgo a quelli che non hanno fatto il modello. Nella prossima uscita le staffe di rinforzo della culla dell'abitacolo, quelle che si mettono poi, vediamo un po', rinforzo culla queste, e il sistema di sfiato del serbatoio. Il serbatoio è questo, e il sistema di fiato è quello che partirà da qua e si andrà a attaccare qua dietro, ok? Bene, io per fare la foto, guardate, vi faccio vedere, non ci vuole nulla, così ci vuole, eh, senza, senza l'inserto è difficile che io riesca a svitare, però vi faccio vedere che è molto più semplice andare a fare questo lavoro che è quello di montare tutto subito. Anzi, poi posso fare la foto anche senza mettere le viti, le metterò poi, penso proprio nella prossima uscita, andrò a incollare tutto, proprio perché non credo che dopo la numero 29 ci possa essere qualcos'altro da andare a mettere, perché gli inserti sono tutti occupati, i segmenti anche, quindi ecco qua. Bene, adesso vedete, una volta che io levo questo, vado a incollarmi poi bene anche il poggiatesta, che bello, il poggiatesta è fatto davvero bene, è verniciato bene, e poi, vedete, niente di più semplice, mi vado a incollare questo, così, io controllo tutto prima perché, vedete, poteva anche essere poi impossibile andarlo a inserire, dovevo metterlo dopo, vedete che mi batte qui, però va benissimo, è perfetto perché poi quando io faccio pressione, vedete che si stacca l'istintore da qui, quindi va bene, ecco, vedete, è più facile, bisogna avere un po' il metodo senza aver la fretta di montare subito, come dico sempre, e tutto è più semplice, uno vuole subito vedere il modello finito, ma non vi preoccupate ragazzi, tanto il modello lo finiamo, se tutto va bene lo finiamo, quindi adesso faccio così per fare la foto, nel prossimo numero avrò ancora il pezzo staccato e poi lo andrò a mettere, guardate che bei particolari, mi piace molto questa vernice rossa dell'istintore lucida, fatta bene davvero, devo dire che è stato riprodotto molto bene, ecco qua, bene ragazzi, grazie a tutti del vostro preziosissimo tempo, un saluto e un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, se volete darmi un'ulteriore mano, un'ulteriore mano condividete i miei video nei gruppi dedicati, questo mi aiuterà sicuramente a crescere un po' di più a livello di iscritti e se avete piacere, ma solo se potete, vi ho già spiegato in altri video cosa penso delle disponibilità, uno deve fare le cose se le può fare, sono tante le persone che vorrebbero poter aiutare qualcuno, ma non riescono a farlo perché non possono, quindi ecco, chi può donarmi qualcosa perché può farlo e lo vuole fare, io lo ringrazierò, come ho detto in altri video, mi piace anche nominarvi nomi e cognomi, ma devo avere la vostra attualizzazione per farlo, perché? Perché è giusto che sia così, il canale è tra virgolette mio, no? Ma non avrebbe ragione di esistere senza di voi, né voi che mi guardate né voi che vi abbonate, grazie a tutti per questo e peraltro e per quello che seguirà, grazie davvero del vostro preziosissimo tempo, saluti da me e dal mio amatissimo fratellino e Michelangelo, il mio gatto tigrato, il mio soriano, grazie a tutti ragazzi, ciao!